ciao da andrea biancolli di visionari selfpublishing.it in questo video ti voglio mostrare il tool definitivo per i self publisher quindi se sei un self publisher devi assolutamente utilizzare questo tool andremo anche a scoprire perché ok questo è un tool creato da un publisher per i publisher ed è fatto appositamente e solo per il publishing quindi al contrario di altri tool come ad esempio elium 10 che serve per diverse cose ma soprattutto è stato studiato per amazon fba questo è un tool che serve solo e soltanto per il publishing quindi ci va a fare le ricerche sono riguardanti i libri quindi ci va a trovare solo libri non ci va a trovare di tutto ok solo libri andiamo un po ad analizzare tutte le funzioni che ha questo tool che ha un abbonamento sia sotto forma mensile che annuale questo tool permette di fare diverse cose anzitutto permette di andare a selezionare dei libri ok cliccando qua sul più nella prima sezione book tracker ci permette di inserire l'url o l'asin di un libro e seguire il suo andamento in questo caso io ad esempio organizing solution for people with adhd ok cliccandoci sopra questo l'ho inserito qualche tempo fa posso andare a vedere diverse cose posso andare a vedere ad esempio il bsr quindi mi fa vedere quanto ha avuto di bsr nel tempo mi fa vedere quanto ha generato di royalties nel tempo in base a dove scorre il mouse nel giorno quindi ad esempio qua siamo al 26 gennaio mi permetti di analizzare il ranking per determinate keyword che io gli ho impostato per impostarle basta cliccare qui sul più quindi qua vediamo che il ranking per adhd quando una persona cerca di adhd era numero 6 numero 7 numero 6 numero 6 numero 7 ok quindi questo libro è sempre stato in prima pagina tra la quinta posizione e la settima adesso tipo adesso è dodicesimo al 31 gennaio in realtà era dodicesimo oggi è undicesimo ok per ricerche in adhd quindi cercando adhd questo libro comparirà per undicesimo ok possiamo anche vedere la storia delle review quindi vedere come sono cresciute le review nel tempo come possiamo vedere il 15 di novembre aveva 622 review oggi ne ha 799 ok poi il niche finder è un tool nuovissimo che è stato inserito inserito ieri e che ci permette di fare la ricerca di determinati libri secondo parametri che gli diamo noi per trovare dei libri che funzionano quindi come funziona noi possiamo cercare una keyword ma io al posto che consigliarvi di cercare una keyword vi dico una cosa conviene direttamente cercare come self publish quindi solo tra i libri di self publisher e andare a cercare un best seller rank minimo di 1 ok e massimo di 75.000 quindi in questo caso sto dicendo a questo tool ok vanno a cercare qualsiasi libro pubblicato da un self publisher che sia come best seller tra l'uno e il 75.000 e che abbia un numero di recensioni tra l'uno e il 100 ok fatto questo gli devo solo inserire le categorie quindi posso andare a selezionare delle categorie qui particolari oppure posso andare nelle primarie quindi in quelle più più generiche ok se ne abbiamo ad esempio un penne che vogliamo sviluppare andremo a cercare ad esempio io ho un penne su computer e tecnologia vado a cercare in computer e technology qualcosa qualche libro che sia con best seller tra l'uno e 75.000 con recensioni dall'uno alle 100 ok questo ci permette di trovare innanzitutto diversi libri ok una volta che abbiamo fatto questo che cremo find books di trovare diversi libri ma soprattutto di poterli poi ad andare analizzare quindi andremo a salvarci le varie keyword profittevoli quindi open source intelligent techniques possibilmente profittevoli non sono per forza profittevoli dobbiamo poi andare ad analizzarle basic security testing with kali linux ptfm password book with alfabetical tabs ok queste sono tutte sono tutte potenziali keyword o comunque sono libri che hanno un ranking sotto al 75.000 quindi questo è un tool potentissimo veramente una roba assurda che ci permette di trovare tanti libri in tante potenziali keyword poi un altro tool che abbiamo è il keyword keyword research tool questo tool ci permette di andare direttamente ora la ricerca è già fatta ma vi faccio vedere più nello specifico come funziona noi andiamo su amazon facciamo una ricerca di un libro una volta fatta la ricerca del libro apriamo l'estensione dall'estensione cioè cliccando qui in alto a destra su questo simbolino una volta che ci apre l'estensione ci ci verrà aperta questa pagina qui dove noi possiamo vedere tutti i dati del libro quindi possiamo vedere il l'autore da quanto tempo è live il numero di recensioni con la media di recensioni quindi questo il primo libro a 4.3 stelle con 20.000 recensioni il prezzo la royalty il ranking quanti quante vendite fa al giorno quante royalty general journal publisher e così via possiamo farlo sia daily che monthly oltre a questo ci fa vedere tutti dei dati medi qua in alto ma la cosa importante e interessante che ci va a vedere un opportunity score questo opportunity score varia da 1 a 5 più il numero è basso e meglio è ok cosa può fare anche questo tool oltre a questo ci permette di andare ad analizzare direttamente tutte le keyword che esistono per keto diet in questo caso che è la ricerca che ho fatto quindi io una volta che ho fatto la ricerca clicco su don ok in realtà clicco su get keywords perché prima l'avevo fatto adesso non me lo fa più fare comunque una volta che clicchiamo qua in alto dopo aver selezionato la casella books ok adesso vi faccio vedere get data io adesso non lo clicco perché l'ho già fatto una volta che io clicco su get data lui praticamente mi andrà a prendere per tutte queste keyword nella sezione paperback i vari dati per farmi vedere e per farmi analizzare quanta opportunità c'è in una determinata keyword ok cosa succede che una volta che ho fatto questo torno su book beam e mi compare keto diet come possiamo vedere il 11 di febbraio io ho fatto questa ricerca e come possiamo vedere ho in keto diet il numero di competitor per questa keyword il numero di recensioni medie e le stelle medie il prezzo medio il numero medio di vendite e il numero medio di incassi ok primo detto che il l'opportunity score più e basso e meglio è in realtà il 5 è il migliore e l'uno è il peggioro ok quindi cosa ci dice per keto diet ad esempio ci dice guarda che c'è tanta domanda ma c'è tantissima competizione quindi l'opportunity score è medio per keto diet cookbook for women over 50 anche c'è pochissima domanda però c'è media competizione diciamo che data la somma di queste cose l'opportunità di ingresso è bassa qua vediamo invece che keto diet for beginners ha tanta domanda ma ha anche tanta competizione però facendo la media di libri che ci sono incassi che ci sono questo tool ci dice guarda che questa 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 keyword è molto buona in cui entrare non è la migliore possiamo andare a trovarne migliore cercando vi assicuro che ne troverete però può andare già bene esattamente come keto diet for beginners 2020 ok che rispetto a keto diet for beginners ha molta meno competizione però ha la stessa domanda quindi alta domanda anzi in realtà se vediamo e analizziamo le due keyword questa 7457 dollari medi di ingressi ok questa ne ha solo 6000 quindi in realtà più domanda ma molta meno competizione perché se andiamo a vedere qua ci sono 10.000 risultati qua ce ne 2.000 questo vuol dire che l'opportunity score è molto alto ok potete smanettarci non voglio creare un video lunghissimo però questo è il tool e questo è quello che fa oltre questo abbiamo il keyword generator keyword generator che ci va a generare una lista di keyword per per una data keyword che scriviamo quindi se io qua scrivo keto diet lui mi va a cercare tutte le keyword ad esempio in books ok tutte le keyword per i paperback che ci sono su amazon ok al contrario ad esempio di publisher rocket lui analizza solo e soltanto amazon perché noi le azze andremo a farle su amazon quindi a noi interessa utilizzare le keyword migliori che ci sono su amazon ok quindi questa è la potenza di questo tool quindi qua possiamo solo copiare le popular quindi le più battute diciamo ok oppure cosa che vi consiglio è copiarle tutte per inserirle poi nelle vostre ms ok qua come possiamo vedere ci ha tirato fuori tantissime keyword oltre a questo un'altra cosa che ci permette di fare nella ms che mi sono dimenticato di dirvi prima è che quando noi apriamo amazon qua questa pagina se andiamo nella pagina di analisi una volta che abbiamo cliccato qua nell'estensione abbiamo la possibilità di copiare direttamente tutti gli asin gli asin che possiamo copiare facendo copio l'asin qua copieremo dal numero 1 al numero 40 se abbiamo la necessità di copiarne di più perché vogliamo targhettizzare tanti altri prodotti possiamo cliccare su extract next page e troveremo non solo i risultati dall'1 al 40 ma dall'1 all'80 85 ok quindi qua in questo caso gli sto dicendo bene voglio copiare tutti gli asin che fanno parte di questa ricerca dall'1 all'85 me li posso incollare ad esempio nel mio file di testo e come possiamo vedere ho 85 asin qui copiati una potenza vero oltre a questo abbiamo un altro tool un altro tool potentissimo questo qua che abbiamo visto possiamo farlo sia per il kindle che per gli audiolibri che per tutte e vi consiglio se fate ads cioè se fate ms solo sul vostro paperback utilizzate solo la sezione books abbiamo il category explorer category explorer che ci permette di impostare dei filtri in base alle categorie in modo da poter rancare nelle prime posizioni per determinate categorie ok quindi qua gli diciamo che io voglio che negli us a livello di cartaceo come prima categoria io voglio i cookbook ad esempio e voglio che il primo nella categoria cookbook sia come risultato tra i 20 e 40 mila ad esempio ok perché io penso di poter almeno raggiungere il 20 mila a livello di ranking questo vuol dire che se io raggiungo il 20 mila di ranking è il primo nelle categorie che tu book beam mi trovi è 30 mila io questa cosa mi permetterà di diventare primo in quella categoria ok quindi questa cosa la possiamo fare per diverse cose possiamo anche dirgli ok voglio che il top 3 sia 80 mila voglio che il top 20 sia 100 mila oltre ok addirittura abbiamo la possibilità dei lawyer quindi delle sottocategorie quante sottocategorie deve avere la categoria che voglio che mi trovi più di due più di tre più di quattro più di cinque io adesso vi faccio una cosa generale visto che prima abbiamo cercato keto diet cerchiamo su cookbooks food and wine e vediamo un po che cosa ci trova quindi io adesso vi dico cercami le categorie che hanno come primo libro in categoria un libro che è il ranking tra i 20 mila e i 40 mila bene lui mi dice che ad ora l'unica categoria è questa qui quindi l'unica categoria che tra a un libro che è 20.206 e questa qua un garia chiaramente non possiamo andare a pubblicare un libro che non c'entra nulla con la categoria chi mi insegna queste cose dovrebbe un altro un attimo rivedere le proprie ricerche quindi noi dobbiamo sempre stare in categorie che ci permettono di raggiungere coerentemente un risultato ok perché non posso essere primo in nel giardina nella categoria giardinaggio se pubblico un libro sulla programmazione neurolinguistica ok quindi io ora faccio la ricerca e dico che va bene guarda trovami tutte le categorie che hanno il libro numero uno di ranking sotto i 10 mila di bsr qua possiamo vediamo che ci sono innanzitutto tantissime categorie ok perché la nicchia e tutte le categorie riguardanti il cibo sono molto battute sono molto combattute ok la cosa interessante che possiamo fare che possiamo anche andare ad ordinare i vari le varie ricerche in base a ciò che vogliamo ad esempio io qua voglio ordinare al contrario quindi dirgli ok cliccando qui sopra gli sto dicendo ordinami in ordine decrescente tutti i vari risultati quindi vediamo che come 8 mila di ranking il numero uno nella categoria turkish european turkish regional international cookbooks food and wine e bla 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 e 8 mila il top 3 in quella categoria è 700 no era 300 qualcosa mila perché adesso mi sono messo è 349 mila e così via posso chiaramente ordinare anche i le ricerche per top 3 top 20 o come voglio ok quindi anche questo è un tool potentissimo oltre a questo abbiamo la chrome extension che quella che vi ho fatto vedere prima da dove si può scaricare e in più abbiamo il formattatore per le descrizioni quindi questo ci permette di scrivere qualcosa io dico ciao sono andrea di visionari ok cosa succede che qua mi fa vedere come comparirà la mia descrizione che ho appena scritto all'interno di della nostra pagina amazon quello che posso fare è selezionare questa cosa e dirgli ok questo sarà il mio titolo quindi lo voglio in h1 lo voglio bello grosso bene ok posso andare sotto dire sto presentando e poi vado a caso a capo bookbim ok quindi ciao sono andrea biancolli sto presentando bookbim voglio rendere in grassetto bookbim bene vedrò qua sotto bookbim in grassetto voglio sottolineare e per rendere in corsivo questa la frase sto presentando insomma ci fa vedere una preview di ciò che ci sarà su amazon quindi questo è bookbim è un tool potentissimo vi ripeto perché è fatto da un self publisher per i self publisher ed è appositamente per i self publishing non è helium che va bene anche per amazon fba quindi detto questo vi assicuro che questo tool vi migliorerà di molto la vostra esperienza migliorerà molto soprattutto i vostri risultati a livello di self publishing io lo presento ancora meglio all'interno del mio corso trovi qui sotto dei codici sconto da utilizzare per l'acquisto c'è un codice sconto del 50 per cento sul primo mese quindi è uno sconto del 50 per cento sull'acquisto del primo mese che potrei poi decidere di non rinnovare oppure è lo sconto del 10 per cento sull'annuale 10 per cento sull'annuale che chiaramente si rinnoverà allo scadere dei 365 giorni detto questo è tutto io vi consiglio caldamente di provarlo perché è veramente una